Non so perchè ma mi è venuta questa voglia di reactare al mondo degli SMEvre Visto che io sono un grande fan degli SMEvre Voi non mi facevate amante degli SMEvre ma è così Comunque oggi andiamo a reactare video di SMEvre di ragazzi Adulti forse e anche bambini Comunque benvenuto a benvenuto al mio pazzo suonale Oggi amici come ho detto prima andiamo a reactare i video di SMEvre più strani e più bizzarri che trovo qui su youtube Anzi su questa pagina Allora il primo strano che trovo è questo qui di questa bambina qua Dove ci sono molti difetti Innanzitutto ho questo fonte con questa scritta messa così al cabbo di Kame Che non si legge nemmeno bene E poi un altro favore qua che ho visto qui Aspettate no Allora dovrebbe essere queste parti qua Ecco Questo Una specificazione quando si fa un video SMEvre Non bisogna mai mettere una cazzo di sigla Soprattutto così rumorosa E' cringe per dire rumorosa e cringe Poi andiamo avanti Questo ci interessa Questo No non ci interessa Questo qua I commenti disattivati Grazie algoritmo Benvenuti sul mio canale Come avete detto Sarà un giorno Altro video con commenti disattivati Quando questo qua avrà Sui 16 anni Cioè può fare Viva SMEvre Cazzo E' lui E' mio amico Anche se fa molti Evrori grammaticali Comunque amici Non ho specificato che io Questi ragazzi Cioè non ho intenzione di prenderli in giro E' per Sono critiche costruttive Quindi non la prendete Sono come offesa Grazie Grazie Che mi è arrivato proprio ieri E visto che ieri non potevo girare un video Lo volevo fare per forza oggi Quindi l'ho che c'era poco studiata per questo Sono nel E' proprio studiata Sì E' una finestra Così La cavolo di cane Un divanetto Un tavolino di sua cugina Come dirà ora E' il muro Un muro bianco Senza niente Cugina Appunto per questo Perché ho detto Che voleva proprio registrare il video oggi Vediamo altri video Questo qua Che non si sente Ci sono molti avrori Anzitutto La sigla si è fatta Super SMEV Perché Se il tuo cane Si chiama super Perché devi mettere Super SMEV Come sigla Consiglio un paio di cuffi Per l'avviso di questo video Quando tu non hai mai fatto SMEV Ehm E poi non li fai nemmeno benissimo Questo Allora Questo qua me lo chiamo SMEV Se per te questo SMEV A me mi pare questo qui Mi da SMEV E' un whispering E basta Cioè Non c'è niente Di più Del whispering A parte Il pennello Non mi pare Di esercire così tante cose Questo video qua Che già ho visto Giorni fa Dove c'è questa ragazzina Che è proprio di professione Fa SMEV Ed è abbastanza brava Cioè Una delle poche Che sono bravi Poi questo ragazzino Che purtroppo Ha i No purtroppo O per fortuna Ha i commenti Attivati Poi questo qua Che volevo farvi vedere Dove fa l'SMR con il suo portamicrofono Come ha detto lui Metto velocizzato Perché se no Non ce la facciamo più Qua fa l'SMR Sul Kumo di Rubik Dove praticamente Deve risolvere Deve Almeno Risolvere una faccia E fare la faccia arancione Ecco Come avete visto Poi fa così a caso Non capisco perché Poi maltratano Sto povero 2DS Motivo perché Dice che non fa Tanto rumore Con i tasti Ma tu che cosa Cavolo vuoi Cioè Il 2DS Non è che sia Stato inventato Per fare SMEV Comunque Un minuto Allora Stavo dicendo Il 2DS Non è stato inventato Per fare SMEV Quindi amico Non ti lamentare Che non fa tanto rumore E che colpa Del 3DS E' stato inventato Per giocare Il computer Pino adesivo Me lo spiegate Per favore Quanto fastidio Che mi danno Questi SMEV Fatti così Questo qual è Ma non sarà sicuramente Sì Infatti Sono attivati Ah poi c'è anche Questo qua Di questo qui Di questo ragazzo qua L'ho fatto Queste SMEV Velocissimi Poi vi faccio vedere Allora Non ci sono molti Evrori A parte Le coperte Dietro Per fare la postazione Ehm Va bene Messo C'è capito Azzopato A zero Era joystick Ma scusate Ma Perché questo joystick Fa così tanto rumore Quante cazzo di volte L'ha sbattuto Contro il muro Per giocare a FIFA Non me lo spiego Altro video SMEV Su ragazzo Ehm Che fa il primo video SMEV Con vari suoni Commenti disattivati A cazzo di cane Youtube Poi vediamo altri video Questo qui Eppure Se non sbaglio Disattivato No Ha attivato Giusto In questo qua Ovviamente Disattivati Ciao Sono di mame Di mani E la videocamera Che è tutto Non posso vederlo Scusate Iniziamo di nuovo L'altro ceretto Fidget spinner Ancora Nel 2020 Non ci posso credere Sono di penne E' la cosa della penna Vabbè Gli lascio Mi piace Poi L'ASMEV Di sotto Ma non troppo Non ha Evlori Questo video Questo video Assemble Eppure Dura 7 minuti 30 Dicono sempre tutti Così Bella tutti Ragazzi Così così Vabbè Assemble Di un foglio Abbastanza Rilassante Cioè Fa rilassare Quasi tutti Non voglio Sì Non l'avevo capito Anna Un libro Vabbè Vabbè Qua c'è Senza normale Non capisco Manco Perché questi 11 Dislike Ehm Questo Ah no Sempre Sempre la ragazza Qua c'è Non vedo neanche Assemble Il primo Aiutatemi a raggiungere Il mio Il mio sogno Il sogno Di fare Assemble Mi stai scherzando Ma che cazzo è Che cazzo Di assemble È quello Non Non l'ho capito Onestamente Ah poi Vorrei farvi vedere L'ultima assemble Questo qua Che ho visto Invece Prima prima Proprio Fresco Fresco Se lo riesco Più a trovare Non esco Infatti Non si vede più La cronologia Andiamo indietro Allora Assemble Era questo Questo qua Ora È vero Ma questa Ma questa sigla Da bimbi Minchia Perché In un smf Perché Poi Altri Erore Altri Erore 200 visualizzazioni 200 visualizzazioni Sì Editare Parole famose Voce del verbo Editare Editare Proprio ci metti Più ad editare tu Che io Per fare i miei video Che Sto facendo fatto Io non edito I miei video Alcune volte Sì Alcune volte No Dipende che i video Sono Tipo Quali lì di Capitazzo Non li edito La maggior parte delle volte Perché mi piace Farle naturale Edito solo le copertine Quali lì sì Quali lì edito Beh a parte questa cosa cringe Primo video per Davix Ma questi triggers Un po' fatti da Davix Isabella sono gli assanti Ma se arriviamo a 257 visual Cheat Entro domani Addirittura 257 visual Tu vuoi Entro domani Poi Entro domani Alle 18 Se non vi siamo arrivati Non vedrò più Video ASMR Infatti Sei stato di parola Perché se andiamo nel tuo canale Troviamo solo questo video E buona visione E una scommessa Andate sul mio primo canale Dove faccio Musica Si chiama K3 official Secondo perché faccio Bit Bebe official Ma che cazzo ho letto Non devo vedere Questo primo canale Mi pentirò Di cercare questa cosa K3 official Offqual Vabbè Official E lui Ma che cazzo No ma non è lui No ma non è lui cazzo Non è K3 official Lui No non mi sembra lui Ah si è questo qui è lui Ma che cazzo è il cazzo di youtube Noi smr questi Mettiamo questo Ecco Mettiamo Capitazzo Cazzo 0 Detto questo Vi saluto E non ci becchiamo Nel prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti